Ma noi indichiamo tre spazi, la lotta all'evasione fiscale prima di tutto, che deve essere una priorità del nostro governo, poi abbiamo bisogno di continuare sul terreno della spending review, quindi la riduzione della spesa, e poi dobbiamo ancora una volta insistere sui giochi che sono spesso elemento di disagio nelle nostre famiglie.